Ah, e salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane e benvenuti in questa terza puntata dell'Apple Breakfast. Allora ragazzi, questa serie vi sta piacendo veramente tanto. Certo, a me non piace tanto bere sempre l'acqua dalla tazza, però... Mi avete fatto anche nello scorso episodio tantissime domande e oggi infatti andremo a rispondere a tutto quello che mi avete commentato. Anche questa settimana purtroppo non ci sono dei pacchi, perché ragazzi devo accumulare video dato che sto cambiando casa, non so se avrete visto questo video prima o dopo, non lo so, sto ricambiando casa. Quindi sto preparando tutta una serie di video da pubblicare nella prossima settimana e quindi effettivamente non ho il tempo di fare nulla. Ah, tra l'altro, se mi vedrete vestito sempre allo stesso modo è perché tutt'oggi sto registrando appunto 5-6 video per la prossima settimana. Intanto ragazzi, come al solito, vi ricordo che per poter commentare e partecipare al prossimo Apple Breakfast, scrivete qui sotto con l'hashtag AB una domanda alla quale ovviamente risponderò. Ma iniziamo con la prima domanda che ce la fa Davide Williams e mi scrive Allora Davide, ti spiego che la batteria in questo momento può essere sostituita con qualsiasi percentuale di usura, che sia al 99, che sia al 98, che sia all'86, in questo momento a 29 euro. Tu, basta richiedere il cambio e ti cambiano la batteria, cioè non guardano il fatto che sia usurata o meno. Puoi anche aver comprato oggi uno smartphone Apple e poi il giorno dopo richiedere il cambio batteria, cioè a loro non frega niente. Comunque sì, la promozione è valida per iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 7, eccetera eccetera, quindi puoi tranquillamente farlo. Ale Tech mi scrive, hashtag AB, ciao Mirko, faranno mai dei MacBook Air di vetro come XXS ed XS Max? Beh, ti dico subito che un Mac di vetro, cioè sarebbe troppo fragile, dovesse cadere un Mac, non avrebbe lo stesso impatto di uno smartphone, quindi effettivamente credo proprio di no. Enzo ASR mi scrive, hashtag AB, ti piace di più iPhone X o iPhone XR? Ovviamente ragazzi, iPhone XR, le colorazioni sono fantastiche, poi rispetto ad iPhone X come ho già detto in un precedente video, è più nuovo, più potente, avrà un aggiornamento in più nel corso degli anni, ma comunque sì, esteticamente a me personalmente piace molto di più iPhone XR. Ciro Andrea mi scrive, hashtag AB, ciao Mirko, ti trovi bene con OMobile? Allora OMobile per chi non lo sapesse è un nuovo operatore mobile concorrente di Iliad, il famoso operatore francese che sta spopolando in Italia, ma OMobile è di proprietà di Vodafone appunto. Io in questo momento a Catania e provincia mi trovo veramente bene, anche perché Vodafone è l'operatore che prende maggiormente, che ha la maggior velocità qui da noi nella nostra zona, ed infatti OMobile appoggiandosi alle reti, Vodafone ha praticamente la stessa resa. E quindi la risposta è sì, mi sto trovando veramente da Dio. Stevie Drower mi scrive, hashtag AB, ciao Mirko, complimenti per il tuo canale, intanto grazie, ti volevo chiedere se Apple Watch serie 4 è resistente all'acqua salata. Allora ti spiego un po' come funziona, l'impermeabilità che hanno i prodotti Apple in linea di massima è certificata per l'acqua dolce, anche perché l'acqua salata ed il sale in sé corrode sia i prodotti in alluminio sia le componenti elettroniche, quindi utilizzare un ipotetico Apple Watch, non lo so, a mare, io non sarei molto d'accordo. Nella versione acciaio magari sì, per la versione alluminio magari no, perché sì è resistente fino a 50 metri di profondità, ma non è resistente al sale, quindi il sale distruggerebbe il tuo Apple Watch e io personalmente te lo sconsiglio. Infatti Apple nelle sue pubblicità dove fa vedere che ad esempio Apple Watch è utilizzato da, non lo so, un surfista per fare surf appunto fra le onde, sicuramente avrà la versione in acciaio e non quella in alluminio. Luca De Matteis mi scrive Ciao Mirko, sono un tuo fan e volevo chiederti, a parte le Airpods, quali auricolari bluetooth consiglieresti da usare con un iPhone XR o un Apple Watch serie 3 che siano di estetica tipo le Airpods in una fascia di prezzo tra i 30 e i 50 euro? Grazie in anticipo se ho un grande. Allora caro Luca ti dico semplicemente che cloni delle Airpods non te li consiglio, a 30-50 euro non hai un paio di cuffie ottime come le Airpods, quindi la stessa estetica non la trovi da nessuna parte a meno che non siano cloni o copiati, quindi io onestamente o ti consiglio le Airpods o ti consiglio le cuffie Beats X che sono praticamente funzionalmente molto simili alle Airpods a parte le funzioni touch eccetera, sono sempre di proprietà Apple perché Beats, la marca Beats è stata acquisita da Apple tantissimi anni fa e costano molto meno, non 180 ma l'incirca sul centinaio, quindi risparmieresti ben 80-70 euro e non è una brutta cosa, mal che va, prendi le Airpods, anzi mal che va, ben che va, prendi le Airpods che sono le cuffiette al momento migliori al mondo. Federico Orsatti mi scrive, hashtag B, secondo te Apple farà mai una sua TV oltre la Apple TV che c'è già ora? Beh, caro Federico, ti dico che Apple negli anni ha lavorato su una TV vera e propria, si parlava già nei primi anni del 2014-2015 di una possibile ITV, ovvero una televisione marchiata Apple. Credo sia un progetto ancora in cantiere, non è una cosa che faranno dall'oggi al domani, però effettivamente io credo che prima o poi vedremo anche questo. Apple si è buttata nel mercato delle automobili perché non dovrebbe farlo anche nel mercato delle TV e oltretutto battere Samsung significherebbe anche entrare nel suo ring, è chiaro che Apple non farebbe mai lavatrici perché, cioè, dai, di cosa stiamo parlando? Però fare televisioni potrebbe uccidere il mercato di Samsung ed ovviamente rendere il mercato Apple ancora più proficuo. Carmine Roberto mi scrive, hashtag B, ciao Mirko, ho un iPhone 7, secondo te lo dovrei cambiare o mi conviene aspettare settembre 2019? Grazie. Allora Carmine, io come dico a tutti, se avete la disponibilità economica e vi piace uno smartphone Apple attuale, fatelo, cambiate, non c'è nessuno che vi tiere, cioè, non esiste un consiglio. Cioè, voi, se volete farlo, fatelo, i nostri consigli, in questo caso il mio non conterebbe assolutamente nulla perché conta la vostra opinione, i vostri gusti ed i vostri soldi. Frattube mi scrive, hashtag B, ciao Mirko, ma la R di iPhone XR cosa significa? Allora, ne abbiamo già parlato su AppleZain.net tramite l'applicazione iAppZain che vi ricordo ragazzi di scaricare qui sotto in descrizione. È l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, attualmente la più scaricata d'Italia. Fatelo ragazzi, iAppZain, cercate su App Store, qui sotto in descrizione trovate il link. Comunque, dicevo, la dirigenza Apple ha parlato di questa R perché durante un'intervista hanno chiesto cosa significasse questa R. Ora, non hanno dato una spiegazione ben precisa, però diciamo che l'intento della lettera R, dice la dirigenza Apple, è affiancato al mondo delle automobili. Ovvero, nel mondo delle automobili, inserendo la lettera R, si parla di un qualcosa di, non lo so, potente, proprio che ha grinta, una macchina comunque, diciamo, abbastanza cazzuta, diciamo così. Quindi, siccome volevano dare un'impronta molto più forte a questo smartphone, l'hanno chiamato R, senza dirci la sigla della R, ma praticamente viene prelevato da nomi di automobili, ecco, diciamo così. E soprattutto che rappresentano automobili di un certo spessore. Lifestyle mi scrive, hashtag B, ciao Mirko, secondo te Apple implementerà la terza fotocamera sui prossimi iPhone? Allora, crediamo proprio di sì. Gli ultimi rumors, o comunque anche i rumors dell'anno scorso, parlano appunto di una tripla fotocamera. Oltre ovviamente alla notch, ovvero la barra sensori che c'è al di sopra degli schermi di iPhone X, XS, XS Max ed iPhone XR, dovrebbe essere inserita una terza fotocamera, solamente nel modello di punto, ovvero il futuro iPhone X11 Max. Che ci svelerà, ovviamente, un display comunque grande, ma con questa tripla fotocamera. Non si sa, questa tripla fotocamera cosa servirà, grandangolare, bianco e nero, questo ancora non lo sappiamo, ma i rumors dicono che ci sarà. Quindi i rumors non stanno sbagliando da diversi anni, quindi prendiamo tutto come veritiero. Alessio Severini mi scrive Ciao Mirko, ti volevo chiedere, noti anche tu che dall'ultima versione di iOS 12.1.1 devi premere molto di più per far accendere iPhone rispetto alla versione precedente, che bastava premere una volta e si accendeva, oppure no? Grazie. Allora, ciao Alessio, ti dico subito che sì, è così. Praticamente Apple ha inserito questa novità in questa versione software. L'abbiamo già segnalata all'interno delle versioni beta, quando abbiamo testato le versioni beta nei changelog. E sì, è praticamente una novità. Bisogna tenere premuto un po' di più il tasto di accensione per poter accendere il vostro dispositivo. È assolutamente normale. Non so se Apple cambierà questa cosa, vedendo che comunque gli utenti non sono stati contenti di questa novità, oppure manterrà il tutto. Però ti dico che attualmente è normale. MagicMotor76 mi scrive Ciao Mirko, secondo te il prossimo iPad non Pro avrà le caratteristiche dell'attuale Pro, cioè Boardless e Face ID? Ti seguo sempre grande. Grazie mille. Ti dico che forse sì. Cioè Apple vuole unificare tutti i prodotti, vuole inserire su tutti i prodotti il Face ID e unificare anche i design. Molto probabilmente l'anno prossimo potrebbe non esserci un aggiornamento dell'attuale iPad 2018 nella versione non Pro, che ha ancora il tasto Home. Ma o l'anno prossimo o l'anno successivo tutti i modelli dovrebbero essere unificati. Quindi andando avanti con gli anni, aggiornando i processori delle versioni Pro, i processori più vecchi verranno inseriti su questo nuovo modello, che sarà iPad 2019, iPad 2020, che dir si voglia. Ma anche questo modello ovviamente avrà la non presenza del tasto Home, ma il Face ID. Johan Marius mi scrive Allora, intanto ti dico grazie per le belle parole, ma il problema è che non si sa. Cioè quando uno stato, una nazione o, non lo so, una banca prende accordi con Apple, non ce lo comunicano. Prima c'è una cosa che succede all'improvviso. Apple prende accordi con la nazione, in questo caso ad esempio la Romania, e poi man mano le banche accettano la proposta di Apple e aggiungono appunto la funzionalità attraverso i propri conti e le proprie carte. Quindi in questo momento non ci sono informazioni, non ci sono rumors inerenti a Apple Pay in Romania, ma se dovesse esserci qualcosa ovviamente troverai tutto sempre e comunque su AppleZain.net e su iAppZain. Renato Copulutti mi scrive Ashtag B, ciao Mirko, vorrei sapere come vengono gestite le notifiche su iPhone nel caso in cui si abbia un Watch serie 4 collegato perennemente via Bluetooth. Lo schermo di iPhone non si accenderà più alla ricezione di una notifica? Grazie all'anticipo, ti seguo con molto piacere. Grazie mille Renato. Allora sì, funziona così, in pratica quando arriva la notifica su Apple Watch, iPhone non si illumina nemmeno. Cioè se tu ce l'hai nella scrivania o in tasca, si illumina solamente il tuo Apple Watch. Si accende lo schermo e tu ovviamente puoi rispondere da lì oppure uscire il telefono, quindi l'iPhone e rispondere da iPhone. E questa è una cosa comunque logica perché non avrebbe senso che si accendessero tutti e due i display per mostrare la stessa notifica dato che Apple Watch serve proprio a quello. Walter Speranzini mi scrive Ashtag B, ciao Mirko, hai voglia di fare un po' di chiarezza sulla SIM virtuale in Italia? Per esempio, nessun operatore per adesso supporta la funzione per la doppia SIM virtuale. Grazie. Allora, caro Walter, ti dico che intanto è vero, Vodafone è l'unico operatore che attualmente supporta la SIM virtuale, ma ovviamente la risposta è semplice. Vodafone ha pagato Apple per essere il primo operatore in Italia. Quindi attualmente non ci sono previsioni sugli altri operatori, sull'inserimento degli altri operatori per le SIM virtuali. Nel 2019 molto probabilmente potrebbe esserci questo sblocco di queste SIM virtuali anche per gli altri operatori. Comunque funziona semplicemente così, tu hai all'interno di o Apple Watch o del tuo iPhone una SIM virtuale, cioè c'è una SIM non fisica praticamente, che si abbina alla tua promozione attuale. Nel nostro caso, in questo momento, si può abbinare solamente su Apple Watch, se non erro, e quindi sfruttare la tua stessa promozione Vodafone sul tuo iPhone e sul tuo Apple Watch. Invece negli altri stati dove c'è attualmente l'operatore virtuale, tu puoi avere due diversi operatori, cosa che attualmente da noi non è disponibile in Italia. Mentre ad esempio in Cina, dove non c'è l'operatore virtuale, ma negli iPhone XS, XS Max ed XR c'è un doppio vanno SIM, si possono inserire due SIM per sfruttare due operatori contemporaneamente da noi. Ripeto, c'è solo Vodafone, quindi in questo momento è palesemente inutile l'operatore virtuale per il dual SIM. Mr. Droning mi scrive Hashtag B, Mirko, secondo te Apple introdurrà un possibile Always On Display? Io lo spero tantissimo. L'Always On Display, per chi non lo conoscesse, è una sorta di funzionalità che a display spento OLED lascia attiva determinate icone, come ad esempio le notifiche, l'orario, eccetera, in modo tale da poter vedere tutto senza dover sbloccare iPhone. Io credo e spero che con iOS 13 arrivi questa funzionalità, perché onestamente è molto utile, soprattutto su un display OLED che con i pixel tutti neri spenti non consuma praticamente nulla. Siamo arrivati all'ultima domanda di oggi, Marco Salamone mi scrive Hashtag B, elenca tutti gli Apple Store che hai visitato. Quale ti è piaciuto di più? Allora, io ho visitato in questo momento solo quello di Catania e solo quello di Firenze, al centro commerciale, quando ho viaggiato tempo fa, ma diciamo che quello di Catania mi piace molto, ma molto di più, anche perché i ragazzi sono fantastici. C'è solo un problema, io ho dimenticato di premere il rack nel microfono, quindi questo video lo vedrete praticamente con un audio pessimo. Infatti questo spezzone lo sto registrando alla fine del video, ma lo rimetterò all'inizio, ce lo metterò all'inizio per farvi vedere che ho sbagliato. Ragazzi, scusate ma sto registrando tantissimi video per questo spostamento ennesimo per il trasferimento di casa mia, quindi non ho premuto... Rec. Ma comunque ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare un commento, una domanda con l'hashtag AB per il prossimo video di lunedì prossimo dell'Apple Breakfast. Io come al solito vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Ciao! Ciao!